Buonasera amici, è da poco terminata l'amichevole non di lusso tra Italia e Estonia, con gli azzurri che al Franchi di Firenze si impongono per 4-0, trascinati dalla doppietta di Grifo, dal gol di Bernardeschi e dal rigore trasformato a Rosolini. Due penalty in questa gara concessa agli azzurri. Premessa, Estonia poca, pochissima roba, quindi credo che anche soffermarsi il più del dovuto da un punto di vista tecnico, analizzando questa partita, avrebbe del delituoso, davvero un avversario poco probante. E' chiaro che questa era una partita importante per gli uomini selezionati, Roberto Mancini, che oggi non era in panchina, a causa purtroppo positività al Covid, e quindi auspichiamo che il nostro CT torni il prima possibile negativo per far sì che, innanzitutto per la sua salute, ma poi per far sì che segua da vicino gli azzurri. In panchina c'era il suo vice Chico Evani, però questa era una partita, dicevo, fondamentale da vincere per la questione di ranking, quindi da questo punto di vista le motivazioni c'erano, e c'erano motivazioni nelle motivazioni per quei calciatori che non rappresentano le primissime scelte per quanto concerne un assetto titolare, che oggi hanno quindi avuto l'opportunità di mettersi in mostra. Grifo non è più una notizia perché da Mancini viene ben considerato, e quindi oggi si è tolto una grande soddisfazione di segnare i suoi primi gol con la casacca azzurra. Focus puntato su Federico Bernardeschi, oggi in campo per circa 70 minuti, con la casacca numero 10, e ha confermato che comunque in nazionale sembra che viva tutt'altra espressione, tutt'altra armonia individuale, perché Bernardeschi spesso e volentieri, non solo contro le storie che, come detto, fa poco testo, però Bernardeschi con Mancini ha trovato il suo spazio, la sua dimensione, dove nel 433, chi mi conosce lo sa, io considero che l'avventura di Bernardeschi alla Juve sia giunta agli sgoccioli perché si è entrati poi in una storia che mi sembra che abbia un finale ormai già scritto, però è un dato oggettivo che Bernardeschi nel 433, quindi da esterno d'attacco, specialmente al primo anno con Allegri, abbia dimostrato di essere un buon giocatore. Mai una stella, mai un'imprescindibile per un club top level come la Juventus, però lì c'è sempre stata una ragione, un'alternativa di lusso e qualche buona prestazione. Qua e là vedi anche la famosa remontata contro Atletico Madrid, in cui Bernardeschi oggettivamente ha trovato il suo miglior contributo alla Juventus. Dopodiché sballottato qua e là, malissimo come trequartista, senza grossa pressione in Coppa Italia, aveva anche giocato nel ruolo di mezzala, però la concorrenza era tanta, ovviamente mi riferisco al periodo di Maurizio Sarri e quell'esperimento è stato subito accantonato. Pirlo per sua stessa missione lo vede più come un giocatore di fascia, però anche lì Bernardeschi è tutto da costruire. Bernardeschi alla Fiorentina, quindi nella sua massima espressione finora in carriera, nasce come uomo d'attacco nel tempo, anche per i suoi demeriti, aggiungerei soprattutto perché poi si iniziano a spostarti qua e là, e perché dove ti mettono non convinci, comunque Bernardeschi ha perso un'identità calcistica. Che il nazionale invece sembra avere, complice la stima di Mancini e complice forse anche la mancanza di pressioni, perché ormai abbiamo visto come la casacca juventina per Bernardeschi pesi oltremisura, come pesi poi anche il pallone, errori che sono davvero stati abbastanza stupidi, se vogliamo, da quando contro il Crotone in stagione non va a puntare l'uomo appena entrato, da quando, passando poi per il passaggio errato contro il Verona che porta al gol di Favilli, anche un po' di sfortuna, millimetro più, millimetro meno, quando atterra un avversario e ciò sfocia nel 2-0, sui gol è trasformato da Messi, quindi il 2-0 del Barcellona in casa della Juve. Quindi Bernardeschi alla Juve non è più un calciatore sereno. Il nazionale sembra che ritrovi nuova linfa e nuovi stimoli e personalmente, poi da un punto di vista individuale, è sempre cosa buona e giusta trovare una propria serenità, quindi se la nazionale dovesse rivelarsi poi una cura, quantomeno nell'immediato, per ritrovare solidità e sicurezza nei propri mezzi, beh, ben venga appunto questa cura targata nazionale. E' chiaro che poi queste partite ti aiutano anche a mantenere magari un buon prezzo di mercato, quindi da questa prima sfida se ne esce abbastanza bene, questa prima sfida di questa International Break, quindi la Juventus può sorridere, da questo punto di vista anche in chiave mercato, può sorridere Bernardeschi che ha fatto un gol dei suoi, ovvero accentrandosi sul piede forte per poi colpire sul primo palo, e posso sorridere poi anche la coppia Mancini e Vani, perché è sempre un 4-0 contro un avversario, ribadisco, estremamente modesto, però è importante vincere, perché vincere aiuta a vincere, e anche le cosiddette seconde linee, oggi barra terza linea nazionale, comunque si sono tolte una bella soddisfazione al Franchi. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto di questa sfida, e se siete non solo tifosi del Juventus, ma legati al Mondo Azzurro, iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like ai miei video. Un abbraccio!